buonasera allora stavo facendo una riflessione molto molto semplice molto come si in questi casi empirica anche se un termine che magari non è molto in uso nel linguaggio comune allora leggo bonucci siamo molto contenti entusiasti del lavoro entusiasti di che è arrivato le cose procedono bene allegri abbiamo fatto otto giorni di ottimo lavoro poi ci sarà la partita con il real madrid nella quale giocherà per in perché c'è un problemino agli addottori normalissimo in questa fase della stagione nella quale esordirà mckenny nella quale esordirà vlaovic che non giocava una partita intera dalla trentasettesima giornata quella contro la lazio quindi la prima della fine perché aveva comunque già dei problemi di pubalgia che evidentemente sono stati superati a Firenze l'ultima giornata era entrato a prendersi i fischi dal 76esimo mi sembra in avanti no senti bremer leggi bremer poi tutto fantastico ci sono un sacco di persone che lavorano per questa società c'è una cura meticolosa di ogni particolare fantastico essere una società così quindi senti i vecchi senti nuovi arrivati tutti contenti entusiasti poi voi direte beh insomma è ovvio non è che possono parlare male no però non c'è neanche bisogno che si lasciano andare eventualmente a degli elogi così sperticati da quando è ricominciato il lavoro alla Juventus quindi senti tutto questo leggi entusiasmo leggi positività leggi allegria leggi serietà leggi professionalità leggi voglia della Juventus di tornare ad essere protagonista quindi di onorare il nome che porta poi leggi i commenti di un sacco di gente ah schifosa ah siamo la squadra l'anno scorso ah arrivano i vecchietti ah è un gerontocomio Juventus vuol dire gioventù ah questo è un brocco ah questo qua bisogna mandarlo via ah Allegri non capisce niente ah i dirigenti sono degli incompetenti cioè allora ragazzi cioè bisogna un attimo mettersi d'accordo sulle cose uno la stagione non è ancora cominciata e già si celeberano dei funerali siete rimasti per voi che la pensate così come si dice influenzati dall'andamento delle ultime due stagioni può anche essere per carità può anche essere però io ricordo che già nella stagione di Pielo c'erano delle situazioni descritte in questa maniera la Juve veniva da nove scudetti consecutivi quindi erano stati totalmente cancellati e non si dava nessuna speranza alla squadra di Pielo all'ora di riemergere poi è andata così no Pielo ha vinto due trofei ok l'annus horribilis se proprio vogliamo metterla giù così quanto a trofei non vinti è stato quello appena passato nel quale comunque la Juventus si è giocata la supercoppa ovviamente di diritto si è giocata la finale di coppa italia perché ci è arrivata ed è arrivata prima di qualche settimana rispetto a Pielo al piazzamento del quarto posto poi siamo tutti d'accordo che vogliamo sempre vedere si deve sempre vedere la Juve vincere qualche cosa e se non vince non va bene però anche lì situazioni catastrofiche a commento di questa serie questa non è ancora cominciata c'è stato il problema di Pogba è vero è un problema soprattutto suo ragazzi è un problema soprattutto suo non è un problema mio non è un problema degli addetti ai lavori è un problema suo personale ed è un problema eventualmente per Allegri e per la società che lo risolverà in qualche modo cioè non è che tu non hai il Pogba a disposizione per due o barra cinque mesi e quindi la società non fa nulla dice siamo a posto così stiamo così cerca di prendere qualcuno se non riuscirà a prendere qualcuno ha delle risorse in casa che guarda caso e lo ribadisco come ho detto ieri sono i giocatori che molti vorrebbero vedere giocare fin dall'inizio vedasi Rovella vedasi Miretti vedasi soprattutto Nicola Fagioli e quindi e quindi c'è tutto questo catastrofismo pessimismo arrabbiature non lo so non lo so di cosa siano frutto se io poi parlo così vengo preso per aziendalista no ragazzi devo essere preso per realista cerco di di esaminare una situazione ok conscio del fatto che siamo al cospetto di una società che è fatta di uomini che come tali possono commettere anche degli errori perché nessuno come non commette degli errori ok nessuno in ogni attività lavorativa nessuno ok e poi possono anche provare a rimediare gli errori commessi poi dopo c'è il campo è lì che dalle sentenze e allora quando leggo certi commenti mi vengono ad equiparare a certi sbeffeggi di tifoserie di altre di altre squadre che in quanto tifosi di altre squadre possono permettersi nella loro ignoranza di sbeffeggiare ma ci sta sono tifosi di altre squadre ignorano cosa sia la Juve e non hanno avuto questa questa possibilità nella vita di tifare Juventus ma ci sta no ci sta ma che venga fatto da tifosi della Juventus mi sembra francamente una cosa totalmente fuori luogo io lo so che non siamo il paese nel quale come ad esempio accade in Inghilterra una squadra retrocessa da due giornate se all'ultima gioca in casa riempie lo stadio noi non siamo così per mentalità però nemmeno bisogna essere distruttivi fino a questo punto adesso si nominano Pjanic si nomina Mertens perché adesso è lì il gerontocomi lo sapevo no ragazzi non c'è niente in questo momento né su Pjanic né su Mertens sono voci non messe in giro dalla società messe in giro probabilmente o da procuratori o da chi magari fa un altro tipo di lavoro da giornalisti che possono essere come in ogni categoria bravi attendibili scarsi poco attendibili sbruffoni o portatori di notizie in tutte le categorie è così in tutte le categorie così ok quindi io non so in questo momento non mi risulta che arrivino né Mertens né Pjanic ok se arriveranno avranno valutato delle situazioni le avranno ritenute tali poi sarà sempre il campo a determinare il giudizio sempre il campo non a prioristicamente stando a caso guardando la televisione o ascoltando i notiziari o leggendo i giornali che in questo momento sono pieni di nomi stracolmi che non sanno neanche hanno finito anche l'inchiostro per scriverli ok poi siamo tutti in attesa di sapere esattamente le situazioni di Pogba sì c'è molta curiosità evidentemente è una cosa lunga ed è una cosa lunga da decidere non solo per ma mondiale o Juve Juve o mondiale non è solo questo evidentemente è una cosa lunga da decidere per l'entità del danno che ha subito non penso che stiano giocando alle spalle dei giornalisti o dei tifosi facendo attendere sul risponso evidentemente ci sono delle cose da valutare che noi non siamo in grado di valutare e che noi non conosciamo e allora questo è il punto questo è il punto non parlare a vanvera perché non si conoscono le cose come chi mi ha scritto ma durante il mondiale di USA degli Stati Uniti baresi si ruppe il menisco la prima giornata e poi giocò la finale non era la lesione di Pogba non era il menisco laterale che può richiedere tanti mesi della guarigione completa e sicura ma no si parla a vanvera e potrei citarne un sacco è un esempio per far dire per farvi riflettere sul fatto che bisogna aspettare prima di dare dei giudizi aspettare poi tutto il mondo della Juve vuole tornare a vincere tutto eh nessuno ci sta a finire quarti nessuno ci sta ok poi c'è da risolvere la questione dell'attacco Caio Giord andrà in prestito come vi ho già detto su Ken stanno valutando la situazione perché si sta ben comportando e già vedo oddio no Ken oddio magari messi in un'altra posizione può rendere può rendere anche abbastanza bene ma non sto dicendo che lo confermano perché dopo le cose che dico io vengono prese come oro colato no sto dicendo che stanno valutando e se valutano è perché ci sono dentro per ogni giocatore ci sono delle valutazioni sia tecniche sia economiche per non fare il passo più lungo della gamma perché sono stati fatti in passato uno soprattutto e che ha portato a due scudetti roba che la Juve già vinceva da prima o una Coppa Italia o una Supercoppa roba che la Juve vinceva già prima e loro bisogna stare attenti ma noi certe cose non le conosciamo ma prima di giudicare si aspetti il campo poi arriveranno altri giocatori certo che arriveranno altri giocatori non è finita qua la Juve iscrivetevi al canale ci vediamo domani ciao